Siamo qui con Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneos. Che cosa manca per chiudere il cerchio all'economia circolare? La scatola di montaggio contiene tutti i pezzi, ci sono tutti e questo è un gran risultato. Manca il soggetto che si prende la responsabilità di fare questa chiusura. Una responsabilità in parte tecnica, in parte gestionale, in parte organizzativa, in parte politica, ma certamente ci vuole il singolo soggetto che si prende questa responsabilità. È una sua aspirazione? Sì, certo, perché con tutto quello che abbiamo fatto e preparato, il Paese potrebbe avere un enorme beneficio, soprattutto nella riduzione degli abbandoni e degli incendi, diciamo, dolosi o irregolari. E quindi l'auspicio è proprio che questo soggetto che chiude il cerchio emerga. Grazie mille, buon lavoro.